salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale bentornati qui su vrc10 allora continuiamo la nostra carriera siamo nell'era di sosta dopo alcune prove speciali non proprio bellissime purtroppo troppi incidenti per noi ci portano in fondo alla classifica purtroppo non siamo riusciti a fare di meglio siamo però riusciti a sistemare la vettura e questo è già un buon risultato visto insomma le condizioni in cui l'abbiamo portata qui nella nell'era di sosta è sicuramente un ottimo risultato allora continuiamo quindi con le nostre prove speciali iniziamo subito la giornata con una nuova prova di quasi sei chilometri alla fine comunque le prove speciali sono più o meno sempre le solite si fanno magari in maniera invertita però sono sono sempre quelle quindi difficile impararsene però insomma non c'è niente di di no magari poi ci sono condizioni differenti tra tra una e l'altra insomma quindi c'è già un nostro avversario sempre con la citroen che parte prima di noi noi cerchiamo di fare un buon piazzamento anzi scusate un attimo che mi sono dimenticato di farlo e volevo abbassare un filino ancora di più la sensibilità perché non mi ci trovo affatto è troppo troppo sensibile allora per quanto riguarda le gomme siamo tutte al cento per cento ci portiamo anche quelli di scorta dietro quindi apposta ok ci siamo signori 3 2 1 via e si va attenzione subito 4 in destra 3 corta chiaro in curve in curve ok 5 chiude 5 chiude ora è una cifra sensibile attenzione qua questo ma ricordo che fuori morta che ho fatta da pure notte abbiamo preso pieno il il lo spigolo attenzione ok fai così 4 corta stringe e destra 3 stringe non tagliare assolutamente in sinistra 3 stringe in sinistra 5 non tagliare e destra 3 corta 40 aspetta che mi sono un attimo perso dannazione ha perso troppo tempo dai ero sotto di quasi un secondo purtroppo qua perso tutto che è voi mamma mia questo appena tocchiamo qualcosa inizia a rollare tornante stretto sinistro 50 tornante stretto oh cazzo è botta sinistra 4 corta in destra 4 taglia poco in sinistra 3 corta e cina in destra 3 corta non tagliare e tornante destro 50 tornante destro sinistra piena e attenzione pericolo su cima incrocio sinistra 5 stringi ok qua c'è stanno i cosi mi ricordo la prima volta siamo andati lunghissime addosso a quei cosi sinistra 5 corta in destra 4 lunga chiude poi siamo ancora in vantaggio ma di poco dai 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 attenzione anche qua eh non proprio velocissimo però e tornante destro non tagliare 80 tagliare ok sinistra 3 corta in destra 4 media chiude 3 in sinistra 3 corta 20 freno pesante sinistra 4 chiude tornante sinistro 30 azione sinistra 4 sinistra 4 50 uh vada sinistra 3 in destra 4 in sinistra piena stringe 50 dai così cima in destra 4 80 oh 6 secondi mamma mia abbiamo guadagnato un boato cantiamo vittoria però assolutamente 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 in sinistra 4 attenzione in destra 3 20 sinistra 3 su cima frena 20 tornante destro attenzione in destra 4 non tagliare uh e destra 5 corta in sinistra 4 corta in destra 3 30 sinistra piena chiude 3 corta dai e curve su cima in destra 3 in sinistra 2 apri bene qua ok e destra 6 30 secca destra su ponte e destra 2 secca destra dai e destra 3 corta in sinistra 4 mia quant'avemo guadagnato ancora dai 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 concentrati ancora in destra 6 stringe e sinistra 5 e sinistra 4 corta in destra 4 corta 80 sinistra 6 corta su cima 30 tornante stretto sinistro 50 più sinistra 5 chiude in destra 6 un attimo e destra 4 corta in sinistra 5 intornante destro non tagliare 30 su cima più destra piena lunga vai così vai così occhio a questo in cui c'è un po' di di neve barraghiaccio attenzione qua il curvone sta ne fotte sempre cazzo e ok ottimo attenzione che qua abbiamo fatto il colpaccio colpaccio ragazzi andiamo in prima posizione ottimo così 19 secondi dal dal secondo insomma gli abbiamo rifilato ottimo ottimo così e facciamo anche un balzo in classifica generale malgrado insomma siamo ancora molto molto indietro però insomma eravamo in 22 23esima posizione abbiamo fatto veramente un gran salto e ancora possiamo magari dire la nostra magari abbiamo un minuto e 45 di penalità quindi insomma saremmo decisamente più sopra insomma intorno all'ottava settima posizione o giù di lì quindi cerchiamo di di far bene prossima tappa 7 km e 27 metri di livello di 4,66 insomma 64% asfalto e 36 neve quindi bisogna prestare un po' attenzione non abbiamo fatto molti danni per lo meno vedendola da dentro alla macchina poi da fuori non ho ben visto però non mi sembra che ci siano non eravamo noi qua ok eccoci beh sì un po' il paraurti anteriore insomma un po' sfonnata c'è però insomma poteva andare molto molto peggio quindi iniziamo la seconda tappa chiudi qua dai così attenzione qui in mezzo al paesetto qua devo togliere ancora un po' di sensibilità perché sto cercando di trovare la quadra e così mi ci trovo abbastanza bene destra 430 sinistra 4 chiude in destra piena in sinistra piena attenzione e destra 4 chiude in sinistra 3 corta in destra 5 corta 20 attenzione tornante destro 50 ok così sinistra 5 50 destra 4 50 sinistra 6 aspettiamo il primo intertempo per vedere come stiamo andando tornante stretto sinistro non tagliare allarga 150 oh 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 dannazione merda sono un attimo preoccupato perché ho visto per terra la neve ho avuto paura di arrivare troppo lungo infatti siamo un secondo e due di distacco sennò saremmo stati abbondantemente avanti però la tappa è ancora lunga attenzione la neve la parte con la neve è veramente tosta perché non abbiamo eh così infatti non abbiamo assolutamente i pneumatici adatti quindi si è molto in crisi e quindi la macchina veramente va per fatti i suoi attenzione qua però ovviamente non puoi montare gomme da neve se c'è solo nel 34% della della tappa quindi qua si riesce a si fa piano si cerca di fare il massimo possibile ancora tornante abbiamo proprio trazione vedono che le ruote vanno a a slittare oh ah da vediamo un po' il secondo intertempo ma forse abbiamo un po' perso andiamo piano qui poi ci stanno questi e mamma mia quanto abbiamo perso sui pezzi in cui c'è l'asfalto quindi le ruote prendono nuovamente grip aia ed è un po' un casotto vediamo se magari nella parte in cui non c'è l'asfalto anche se insomma stiamo continuando a salire quindi deduco che ci sarà ancora neve per un po' le potevano pulire pure meglio sta strade mezzo sì mezzo no ok vai che torniamo sull'asfalto qui ci so ok ok vai torniamo sull'asfalto siamo veramente molto indietro ma magari riusciamo a recuperare in quest'ultima parte della della tappa in sinistra piena in destra 4 corta stringi in sinistra 5 corta 40 destra 5 corta stringi in sinistra 5 corta 150 è 26 secondi da qui in poi dobbiamo cercare di fare il massimo e magari non così non assolutamente così no dai cazzo niente siamo bloccati continuiamo e niente abbiamo fatto quella precedente ottima e questa veramente pessima azione tornante sinistro 40 tornante sinistro 30 e quanti tornanti tornante stretto destro 30 tornante sinistro tieni tornante stretto destro 80 donna sinistra 4 30 peccato qui 5 secondi di penalità a parte che stavamo comunque abbastanza sotto sopra rispetto al al migliore però magari nell'ultima parte avremmo potuto guadagnare qualcosa presa questa quattro corta stringe in sinistra 3 in destra 2 apre stringi in sinistra 3 chiude casa interna 20 interna magari la evitiamo 7 secondi abbiamo solo perso cioè 28 secondi e 7 ce ne avevamo 27 malgrado di 5 secondi abbiamo perso solo un secondo rispetto all'altro intertempo quindi veramente abbiamo dati secondari abbastanza veloci perché qua c'è l'ultima parte in cui c'è la neve attenzione quindi pure qui andremo a perdere purtroppo che devo andare più piano e trovare ah ci sono tutti i fari cazzo sinistra 5 corta e frena in destra 5 su ponte e destra 3 più sinistra 5 corta in destra 4 stringi chiude in sinistra 2 in destra piena chiude 4 lunga stringi chiude uh guarda meno male c'era staccionata se no andavamo da sotto facile facile uh eh si vabbè presto rimettiamoci in carreggiata vabbè tanto ormai era andata abbiamo fatto veramente male male sto che abbiamo rotto qualcosa pensavo a sospensione ho addirittura bucato peccato ultimi cioè penultimi insomma ma peccato perché quella precedente era andare bene eravamo saliti un po' e vabbè in sedicesima ci può ci può anche stare dai allora vediamo la successiva il problema ora è che la macchina non è che sta proprio messa molto molto bene stati chilometri e 29 magari andiamoci a cambiare i pneumatici e di di entrambe le parti poi questa è l'unica l'ultima tratta e poi c'è la la sosta ovviamente quasi parte già con la neve quindi anche qua ci sarà metà come diceva lì 64% di asfalto e il 30% di neve insomma allora vediamo un attimo seleziona gomme posso solo cambiare con quelle che ci portiamo appresso quindi non posso fare nient'altro si cambiamo perlomeno abbiamo un po' più di trazione all'anteriore speriamo bene ragazzi perché la botta all'anteriore l'ha presa è abbastanza quindi siamo pure senza fari se parte è un parolone già già slitta non so cosa c'è ma c'è un problema alla sospensione anteriore praticamente la 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 neve non aiuta abbiamo cercato di difenderci il più possibile evitare danni in sinistra 4 30 se no rischiamo che poi non abbiamo azione non abbiamo il tempo per andare a ripararla la macchina quindi poi ripara un po' un po' di tutto quindi niente con i punti in trazione rimaneva a slittare in seconda che appunto non c'è non c'è molta trazione vista la neve ma se cadestra allarga ok questa è quella che abbiamo fatto prima però la stiamo a far contrario e in sinistra 2 corta e in destra 4 in sinistra 5 corta 80 occhio occhio no ma i secondi solo di di svantaggio perché pò ma dovrei aspettare un po' di più sinistra 30 bene sinistra 3 tieni intornante strato destro non tagliare 30 qua c'è tutta la serie di tornanti ok poi abbiamo comunque qualcosa all'anteriore sinistra che non ci dà molta trazione per le pozze d'acqua ma anche una dietro l'altro dai 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 cerchiamo di ricoperare il più possibile avevamo 9 secondi facile che siano di più come magari qualcosina meno no 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 non ti incastrà la mia non ho male tornante destro 50 tornante sinistro 50 niente quelli di destra mi riesco a fare no ma sono incastrato e niente forza concentriamoci eh tornante destro 120 dai dannazione vediamo un po' quanto andiamo e 26 capirai siamo un po' sfigati però non grida dannazione dai occhio io quanta ma è qua se la devo fa tutto in discesa pure sì occhio sui dei due oh fortuna c'è il muretto piano piano dai cazzo vai a prendere proprio la sporgenza e niente io tengo duro ma bisogna vedere quanto tiene dura la macchina che poi una certa se superiamo un tot di danni ci ci da che abbiamo dobbiamo ritrarci insomma 41 secondi capirei in destra 3 tieni in destra 4 oh 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 ancora un po' di danni addio abbiamo furato la gomma possibile sinistra vediamo un po' fin dove riusciamo ad andare male bene ai peccata abbiamo avuto quel lampo dopo la la sosta e poi siamo ritornati nel baratro più assoluto troppo qui ecco la scelta dei gomma è un po' un casotto e non credo ci faccia guarda non credo se si possano mettere tipo le anteriori d'asfalto o le posteriori da neve insomma fare un mix di gomme questo non lo so in verità non è con quella gomma che tra poco si staccherà non l'è già fatto però stiamo quasi prossimi alla all'arrivo dai 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 poi senza fari per fortuna poi ce lo sapete però se è stata una tappa in notturna sarebbe stata assurda un po' impossibile pure da fare freno pesante per tornante sinistro e in sinistra 5 corta attenzione come l'ultimo tratto in sinistra 3 chiude e destra 5 ma qua in poi dovrebbe essere tutto asfalto in sinistra in destra 4 chiude non tagliare 30 sinistra 4 corta 50 attenzione tornante destro 50 ancora con sta comba non la voglio cambiare ormai siamo arrivati non la voglio cambiare destra 4 corta in sinistra 5 corta 120 6 cima sto quasi a mosca cieca per quanto poco non ci si vede oh mamma mia ok 7 minuti la macchina sfasciatissima ultimissima proprio 1 minuto e 9 mamma mia mamma mia brutta cosa vabbè ma più di così non potremmo fare la macchina era quella che purtroppo va bene siamo di nuovo sprofondati perché ovviamente abbiamo avuto quel lampo ma poi due tappe in cui siamo andati pessimi siamo ritornati nella parte bassa della della classifica purtroppo è così per fortuna ora siamo nell'area di sosta quindi possiamo andarci a sistemare la la nostra vettura sperando di riuscire insomma c'è qualche problemino tecnico sul posteriore insomma e allora riparazione automatica ce la dovrebbe fare insomma star su 29% quindi non tantissimo in verità va bene ancora un po storta ancora un po ammaccata ma più di così non saprei cosa fare allora ragazzi io direi che ci possiamo intanto fermare qui io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo fatemi sapere che cosa ne pensate come sta andando anche voi se magari lo state giocando purtroppo vi vado un po' a rilento perché ho da portare avanti anche altri titoli quindi comunque sicuramente sono più lento di voi però insomma fatemi sapere a voi come sta andando come sempre in descrizione trovate i link ai social network e in alto a destra lei che vi riporta la playlist del titolo nel caso in cui abbia esaltato qualche appuntamento di nuovo vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao